La Casa delle Donne sorgerà a Colle Maggio, nei locali che ospitavano il Conservatorio Casella e l'ex orfanotrofio, ma intanto la ricostruzione, grazie al progetto Offside Art, sarà accompagnata dagli scatti della grande Letizia Battaglia su Tele. I lavori sono già iniziati, due milioni di euro restituiranno la Casa delle Donne, si spera, entro un anno e mezzo più o meno, un punto di riferimento che accoglierà a terre mutate l'Associazione Donatella Tellini, che ingloba al suo interno Centro Antiviolenza e Biblioteca delle Donne. La Casa delle Donne sarà un luogo di incontro, di elaborazione di politiche di genere, sarà un luogo offerto alla città, le donne della città, ma non solo, sarà un luogo dove si penseranno, elaboreranno e agiranno politiche a favore delle donne, dove si elaborerà un pensiero femminile e femminista e dove si incontreranno donne di associazioni, donne dei movimenti politici, donne di tutte le religioni, donne migranti. Insieme a tutte loro vogliamo tessere una relazione, un rapporto, azioni a favore della nostra città e soprattutto delle nuove generazioni. La pandemia nella fase iniziale ha bloccato le denunce da parte delle donne vittime di violenza, ma poi c'è stata una ripresa, esplosa con maggiore intensità, perché situazioni già gravi si sono complicate. Come spiega Simona Giannangeli, legale del Centro Antiviolenza, che accoglie mediamente l'anno circa 60 donne. Le associazioni, in una bella giornata di sole a Colle Maggio, hanno presentato questo progetto di arte e ricostruzione, significativo il fatto che da oggi a copiare le impalcature ci siano degli scatti di donne della grande battaglia. In tutto questo c'è terre mutate, nata dopo il sisma, che non ha mai smesso di accompagnare le donne. Questo progetto di vedere la ricostruzione di un luogo che potesse accogliere la progettualità femminile, la creatività, la cultura, le esperienze, ma anche lo stare insieme, l'affrontare delle problematiche. Ecco, è questo lo scopo dell'associazione, quindi di realizzare questo luogo. E quindi devo dire che con questo cantiere che si è avviato, il nostro progetto ha fatto dei grandi passi avanti. L'installazione si chiama Meroviglioso Reale e fa parte del progetto di arte pubblica dell'associazione Offsite Art, che ha già prodotto oltre 3.000 metri quadri di opere stampate su tela all'Aquila. Il cantiere di Colle Maggio, peraltro, è il primo di ricostruzione pubblica del probelitorato, coperto con le opere di questo progetto. Era presente anche il rettore dell'Ateneo Edoard Alesse, perché l'iniziativa gode del patrocino di regione, comune e Ateneo. Offsite Art nasce nel 2014 grazie ad Artbridge e alla socia Antinsca di Marco, che hanno importato in format new yorkese qui all'Aquila. Con questo l'intento era di accompagnare la ricostruzione privata e quindi in qualche maniera rendere la città dell'Aquila un museo a cielo aperto e di quindi custodire questa ricostruzione ed accompagnarla alla rinascita.